Chi di voi non mi ha ancora seguito su Twitter? Così per sapere, per sapere, ho aperto un account Twitter in realtà da un anno, però ho iniziato a utilizzarlo da pochi giorni, quindi seguitemi su Twitter, primo link in descrizione, Twitter è un social particolare, ok? Un social particolare, credo che ci divertiremo, quindi seguitemi su Twitter, primo link in descrizione. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Luiz Alberto Illich. Allora, Illich e Luiz Alberto, iniziamo il video così, il Siviglia ha preso Isco, quindi molto probabilmente, anzi difficilmente prenderà anche Luiz Alberto. Luiz Alberto, che quindi molto probabilmente rimarrà alla Lazio, Luiz Alberto tra l'altro ha il contratto fino al 2025 o fino al 2026 con la Lazio, quindi ha ancora diversi anni di contratto. Io non escludo un inserimento del Napoli per Luiz Alberto, Napoli che in questo momento sta piazzando Fabio Ruiz al Paris Saint Germain per una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro e Napoli che non ha mai nascosto in realtà un suo interesse nei confronti dello spagnolo della Lazio. Solamente che sembra che Spalletti voglia passare al 4-2-3-1 quest'anno, voglia sfruttare la cessione di Fabio Ruiz per passare al 4-2-3-1 e questo spiegherebbe anche l'acquisto di Raspadori che giocherebbe dietro la punta, quindi dietro a Usimen, però a quel ruolo potrebbe tranquillamente farlo anche Luiz Alberto essendo lui comunque un trequartista, quindi a prescindere da tutto io non escludo un inserimento del Napoli per Luiz Alberto. Ma voi mi chiederete perché la Lazio deve per forza cedere Luiz Alberto? Perché Sarri vuole Ilic, ragazzi. Sarri ha chiesto Ilic perché Ilic è il calciatore che darebbe equilibrio a questo centrocampo perché ne ha bisogno, perché ne ha bisogno. Infatti nelle ultime amichevoli, soprattutto quelle contro il Qatar e contro il Valladolid, dal primo minuto è sceso in campo questo centrocampo. Cataldi, Basic, Milinkovic, Savic. È vero, Luiz Alberto non era presente in Spagna, però era presente in Germania eppure a scendere in campo dal primo minuto erano stati Cataldi, Basic e Milinkovic, Savic. Questo qualcosa vorrà dire, ma non più che altro per Marcos Antonio Cataldi ma per la mezzala Sarri vuole Ilic perché Ilic fa più lavoro di contenimento rispetto a Luiz Alberto. È più veloce, quindi è più dinamico di Luiz Alberto. È vero che non ha quelle caratteristiche da fantasista che fanno impazzire i razziali, diciamo le caratteristiche da ultimo passaggio, però è anche vero, ragazzi, che Ilic è molto bravo tecnicamente. E' molto bravo tecnicamente, questo non possiamo nasconderlo. Quindi per questi motivi Sarri vuole Ilic e dato che Sarri vuole Ilic, la Lazio vuole accontentare Sarri. La Lazio potrebbe provare a prendere Ilic a prescindere dalla cessione o meno di Luiz Alberto. Questo sarebbe clamoroso, sarebbe clamoroso perché la Lazio si ritroverebbe con, a centrocampo, questi qui. Marcos Antonio, Milinkovic, Savic, Luiz Alberto, Ilic, Vesino, Basic e Cataldi. Wow, ok. Quando mai la Lazio ha avuto un centrocampo del genere? Nell'era Lutito? Mai, mai. Sarebbe clamoroso, però, ragazzi, io penso che difficilmente accadrà. Difficilmente accadrà per svariati motivi. Allora, innanzitutto, è vero che la Lazio ha preso Vesino prima di cedere a ACPAC Pro, è vero che la Lazio ha preso Romagnoli prima di vendere a Cerbi, è anche vero però che la Lazio non prenderà il terzino sinistro prima di vendere Isai. Quindi, credo che lo stesso valga per Luiz Alberto Ilic, molti mi diranno, è vero però Isai prende un milione e otto, quindi è giusto che sia così, mentre ACPAC Pro prende 500 mila euro all'anno. Sì, però, anche a Cerbi prende due milioni e mezzo all'anno, eppure la Lazio ha chiuso per Romagnoli che ne prenderà tre all'anno. Quindi, è una situazione molto intricata. Se parliamo solamente di ingaggio, se parliamo solamente di ingaggio, in realtà, l'operazione Ilic, a prescindere dalla gestione o meno di Luiz Alberto, è fattibile. Sarebbe molto fattibile, perché Ilic prenderebbe un milione e uno, un milione e due all'anno, essendo comunque lui un calciatore molto giovane, quindi come Marcos Antonio, per intenderci. Inoltre, la Lazio ha abbassato molto il monte ingaggi dall'inizio del calciomercato. Quindi, sotto questo punto di vista, in realtà, l'operazione Ilic sarebbe fattibilissima. Il problema è il prezzo del cartellino, ragazzi. È il prezzo del cartellino, che parla chiaro, 13-14 milioni di euro, già scontato da Setti, per un club che ne ha già spesi una trentina. La Lazio ha già speso una trentina di milioni di euro. Quindi, io credo che sia molto difficile che possa arrivare Ilic senza una cessione di Luiz Alberto. Indipendentemente da questo, credo che comunque la priorità debba essere riservata al terzino-sinistro. Questo è poco, ma sicuro. La Lazio deve piazzare i sai ovunque, non mi interessa, e deve prendere Emerson Palmieri, perché Emerson Palmieri sarebbe la ciliegina sulla torta. Anzi, non la ciliegina sulla torta. Sarebbe il fiore all'occhiello di questo calcio-mercato. Veramente, l'acquisto di Emerson darebbe una dimensione diversa al calcio-mercato della Lazio, che sarebbe finalmente quasi completo. Sarebbe veramente quasi completo, se non completo. Ripeto, io ho delle riserve sul vice immobile, però che ci posso fare? Guarda, io, come ho sempre detto, mi fido di Sarri. Lo scorso anno Sarri ha portato questa squadra al quinto posto, al quinto posto in classifica, sopra a Roma e Atalanta. Dico soltanto questo. Con quella squadra lì, una squadra che aveva molti calciatori inadatti al suo gioco. Ecco, Ilic sarebbe più adatto a Luiz Alberto, e questo mi basta per volere Ilic, per quanto mi riguarda. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non lo avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!